Questa è benzina, io vi do fuo 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 fuogo Ciao a tutti ragazzi per venire in questo nuovo video Oggi siamo su le Egg Wars E sempre in pratica sui mini game di Minecraft Perché dopo questa partita Che caccia Boh vabbè dopo questa partita penso faremo anche un murder E mettiamo Team Red Siamo accompagnati non dite Riccardo 1 Ciao a tutti ragazzi E la sua seconda apparizione sul nostro canale Il kit se puoi scegliere Little Harbour Tu metti spara No quella costa Vabbè aspettiamo che arriva qualcuno Noi riprendiamo quando è entrato qualcuno nella lobby Ciao Ok ragazzi abbiamo iniziato Stiamo in partita Eccoci qua Stiamo per cominciare la partita Il gioco è iniziato Ok Ah hai chiuso tutta l'armatura proprio Ah ok E guarda Io non c'ho mai giocato alle Egg Wars Mai Mai No Non stai bello perché Sponano un sacco di madegale Ah E poi guarda Guarda che fa Guarda ma me Stai No non c'è qua Vado di E poi Ah la potersi la potersi Poi metti sponano Capito Non c'è stato pure su E' bello E' bello E' bello Sì E' bello Per un attimo Ti so un po' desubile E' bello Quando sei cercato il brunzio Non c'è stato Ah Sta solo il ferro Il ferro avrò indialanto Quindi nel centro Che figata E' come E' come le bello 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 fate il ponte al centro grazie a che a non mi cacchio ma che cacchio ma perchè c'è sta cosa qua vecchia perchè così c'è sta quest'altro tipo di cosa qua l'idea carnavali non mi ricordo no ma non ho piaciuto al blocco sono distratto scusate ragazzi allora questo ecco livello 2 e vai ok dei cilingotti d'oro adesso vai là vai al centro levati ok vado a far ponte voglio fare la spada anche ah ma c'è una spada perchè quello c'è sia la spada che è la cosa oh vado a far non mi accanto via via infame devo cancellare e parolacci no devo censurare nooo perché non lo piazza mi sicuro no 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 i blocchi non è possibile il gas il ragazzo per te non amore se non vedrete questo video sapete perché no aspetta facciamo vediamo che no facciamo da dammi ok aspetta vediamo che ci si può comprare dammi io do a metà pure il ferro e il loro tutto perchè se vuoi mi dà tutto allora io un po' ma che devo fare la spada nooo me ne manca uno per prendere qualcosa la spada no no 12 l'arco è il problema che l'arco non c'è no ma vedi uno dei freddi di diamond adesso qua grazie problema no davvero costa 12 li faccio un piccone io va quanto fate danno lo sale sul mio canale 5 d'attacco asil me lo lascio in descrizione che carina di 98 ricardo 1 iscrivettemi che anche lui fa video del genere minecraft lo posto sul telefono però è sempre minecraft NO 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 porco b***ho ! Guarda che c'è intanto quale c'entre? C'è s... Non si è bella carne! no 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 ma non c'è il diamo 12 diamanti lo shop non si apre ma hanno fatto perdere 12 diamanti e 22 non mi ha la promozione sicuramente racca si ma l'uomo no non lo so no no 10 via qua su diventa sempre su questo aspetta che c'è sta qua la squadra di diamanti fammela dura a me allora si tanto ce l'ho due se le faccio pure a te quindi e portami pure un po' di cibo vado dammi 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 cibo e spazio aspetta prima la tarascia aspettami pure a me ok? ok ti ho un po' di cibo per me cos'è almeno? no amore io mi faccio qualcosa che ho con 20 diamanti che c'ho penso che a farmi nasco e se riesco che te lo faccio pure a te ok dammi quei di cibo e diamanti a me se riesco io mi faccio l'arco sempre so ok chi è no? dammi pure di cibo e dove c'hai ah si c'ho 54 tu sai perchè? perchè a me ci faccio frecce perchè mi piace a film dove stai? sto sempre in là dove stavo perchè questo mi ha dato l'armatura a un sacco di giochile ancora no non muoio gli occhi va alla pianina avanti e porta a me intanto lo faccio uno di arco poi te lo faccio pure a te no no ha preso lui va alla muro il prossimo ok dovresti averlo preso si che l'ho preso si si ok stava arriva uno stava arriva piena quanto costa le frecce? oh eh ci mi ha solo uno tieni stai qua ok ok con power uno per il massimo walk tutto qua ok non lo faccio un po' di cibo non c'è anche quei fili di l'arco? no no andiamo a lasciare? guarda come metti ho fatto una stupidaggia ferma ok 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 ragazzi eccoci no ferma una si è subito perché uno sul ferro ma non ci sta di più il ferro no eccolo l'hanno lasciato si devo essere forte quanto ti pare però che l'avevo detto l'hanno lasciato cacchio però c'avevo a meno d'oro pure io ultimo giallo senza neve l'ultimo giallo ah si si appunto l'ultimo giallo no 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 e ah 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 non era tutto con niente guarda la mantiene guarda la mantiene è che quando ti senti si si oh abbiamo vinto gg eeeeeeeee bella allora ragazzi speriamo un pochino di vese è vinciuto abbiamo finito la partita e l'ho vinto iscrivetevi al canale se ancora lo avete fatto anche a quello di notte il cardone che sto nella descrizione iscrivetevi al video se vi è piaciuto e vi è finito al prossimo video ciao